vedete oggi ho visto serenitana napoli è inutile tu c'è oggi la serenitana ha fatto una bella partita davvero sembrava davvero in ripresa e tanto che mi stava preoccupando all'inizio vabbè il napoli è passato in vantaggio subito dopo dieci minuti un po dopo e quindi già mi aveva tranquillizzato un poco ma la serenitana davvero ha fatto una bella partita proprio però questo che cosa significa questo da valore a quello che dico io purtroppo la qualità è importantissima è troppo importante e in serie a la qualità fa la differenza e il napoli giochicchiando 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 ha fatto anche poi il 2 a 0 con elmas elmas che è entrato al posto di qualskeria e sono squadre che giocano sulla qualità non puoi farci niente il napoli è venuto a lecce e ha passeggiato finisce la partita e non c'è neanche da criticare da lamentarti da rimproverare qualcuno sono squadroni che hanno tanti di quei giocatori anche in panchina che non ti danno scampo comunque la serenitana in ripresa quindi vediamo di noi del lecce di stare attenti perché avete visto il cagliari la scorsa settimana e ora ho visto la serenitana ed è davvero in ripresa dai lecce mio